bentornati nel nostro viaggio tra profumo ed emozioni la protagonista di oggi racchiude un po tutte le emozioni che abbiamo scoperto in questo nostro viaggio olfattivo ed è la meraviglia quando entriamo in contatto con qualcosa di inatteso di inaspettato ecco che proviamo la meraviglia i bambini hanno la grande capacità di vivere a pieno questa emozione un pochino poi col tempo la perdiamo ma può un profumo regalarci ancora meraviglia io penso di sì l'uomo delle meraviglie per me è thierry mugler colui che ha regalato fragranze iconiche straordinarie e senza tempo come pensiamo ad angel alien ecco tra le fragranze delle sue creazioni ho scelto alien goddess tra le sue note così luminose come il bergamotto il gelsomino e questa nota di cocco che lo rende particolarmente cremoso diventa una fragranza straordinaria che arriva da un altro universo e per l'uomo ho scelto alien for men che con le note di limone di cuoio di osmanto saprà far diventare qualsiasi uomo meraviglioso